Bella che nottari bentornati qui Yoshi e siamo come settimana scorsa con un video che va a riprendere un po' quelli che sono i momenti nostalgia di Ultimate Team con quelli che sono le vecchie squadre, quindi ora abbiamo fatti i Tots Community, Tots Live, Tots Most Consist, insomma tutta quella parte lì settimana scorsa, questa settimana visto che alle 19 escono i Tots Premier, facciamo i Tots Premier League iniziamo da quello che ho trovato più vecchio in assoluto che è il 12, come vedete qua sopra abbiamo tutte quante le vecchie squadre dei Tots, mi sono messi bene prima perché la registrazione stava a cercare Link, Robben, era uscita una merda, ho preso e ho ristartato tutto e andiamo a vedere un po' quello che sono i vecchi team che ti devo dire, è già questo, che poi questo addirittura era Team of the Year English Premier League, lo chiamavano allora, andiamo a vedere Art, il primo Walker del Tottenham Coluccini del Newcastle, Company, Baines, Bale Silva, Iaia, Valencia, Runei Vampire oh che bello, vero, belli, pompati, belle carte, Art Staghero che stazze pazze Mata 88, eh ma belle, belle carte, prego Bale ridatemelo in qualche modo se io chiudo, faccio vedere sì, vabbè, l'hanno presi tutti, abbiamo acquiggiato, il 12 non c'è giocavota ma io non c'ho proprio giocavota, mi ricordo 13 sicuro, 13 squaiato, dal 13 ho iniziato questo castigo di Ultimate Team da più di 10 anni English League Team of the Year's ah, i sostituti erano Krul, Williams, Gabay, Dempsey, Mata, Lambert e il Kunnaguer come il Kunnaguer, però comunque, busta, si, vabbè, Dio Walker è da 76, 85 io non ero male comunque, è il primo, il 12, ho visto robe fatte peggio successivamente andiamo su quelli un po' più recenti però oh, ma se clicco mi mette fullscreen? sì, chiude abbligità, grazie sì, vabbè, mi ho messo più lontano di prima fa vedere un po' se io zoomo ok, ma è bello ma non mi si vede eh, pure questo è Carrick, ma so Carrick, Hazard, Zabaleta che si muoveva in campo a 60 di velocità mamma mia, overall, le robe, sì, ti è in bidone eh, Rio Ferdinand, che ancora giocava questo è il 13 check, Vertonghen, Baines da nuovo Bale, 93 Bale, prego, datemelo, icona Mata, Suarez, sotto Begovic, Van Persi che belle ste carte, cazzo belli giocatori, più che altro Suarez era, non so se è quell'anno dove Suarez vince la Scarpador e si mette tipo nella lunga sfilza di vincitori che è Messi, Ronaldo, Ronaldo, Messi e c'è stato un Suarez in mezzo non so se è quell'anno lì o è più avanti o comunque mi ricordo un Suarez che sta alla porta a casa abbiamo le carte singole belle c'è Cagor Caschietto il più grande di tutti comunque 84-89 beh, ma è il 13 perché qui c'è scritto 12? no, fut 13 Barclay Tots ok ci siamo una roba per ora se non escono 7 ore ti posso zabbare da me lo ricordavo piantato per terra Vertonghen Rio con 68 velocità non ti farebbe mai riuscire così so, Williamson so perché ma c'ho un ricordo fisso d'esta dinamica con lui e con questa combo Galles Swans non so per quale strano motivo ma c'ho proprio il ricordo suo Baines pure me lo ricordo bene c'ho un cross tutto pazzo ecco qua Carrick con 90 passaggi il resto è un azzardo tanta roba Gareth mamma mia che carta una volta sarebbe una carta assurda pure ad oggi cioè un cartone della madre questo è tipo Avers che è uscito con inverti il tiro con la difesa è Avers è una roba del genere ma insomma ci mancherebbe rispetto per Gareth Bale Mata Gerrard eh questo questo era bello questo mi ricordo qualche video strano con lui punta questa antica zorla questo me lo ricordo questo mi ricordo ancora Beccai 1 in divisione mi ha fatto un bucio di culo con questo caso la palla tirava ma la mettevano tutti ma quanti cose avrò preso Deccart a Suarez ma tirava da centrocampo sempre gol Robby van Persie Michu e Benteke bello Benteke mamma mia romantico Benteke spettacolare Benteke Benteke ci faccio pure le prime weekend sul 17 Benteke Luca Q davanti andiamo sul 14 ok che c'abbiamo qua Anviti Giajad Mertesager Check Terrico madonna che c'è 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 il girello dietro stavano Azzar 90 design pure bello figo Ramsey Steve G Starridge baggatissimo Yaya poi c'è Coleman Lallana David Silva Spiliqueta Sterling e il Kunaghero e poi 30 aprile i dati più o meno hanno mantenuto oggi 26 Yaya ma c'è sto Yaya fai la carta di Yaya bello ma comunque le carte pure nei vecchi uno diceva eh no perché bussavano oggi bussano di più ma e tutto ah qui pure il confronto con il base c'è cazzo è questo ma me li coglioni questa è la hero base che esce da quest'anno poi Mertesager da 34 a 40 di velocità da 39 a 52 di dribbling pure Terry di Erda come stava Coleman lo ricordo Baines sempre continuava a uscire assurdo Aspiliqueta Ramsey mazza belli però Gerard degli ultimi anni di carriera sto Yaya vabbè Dersidi faceva delle robe fuori di testa Lana vabbè Eden Hazard Eden Hazard Chelsea pazzesco David Silva Sterling e Suarez tenavano Suarez e Toz davano risparare sta ricevendo addirittura il Tozza non ti rendi conto il Kun questo con i link del 2000 potere squadra di Foodhead che roba e qui siamo passati a Foodbin invece che ce le mostra tutte così ce le mostra mobilizziamo un pochettino poi eccoli che ci abbiamo bello il nigno marrafico all'Arsenal pazzesco sempre azzardo Tozza che ero Toz Costa che assassino questo questo che killer Bolasi Tozza addirittura Sex Fabrica Sex Ancora Terry Santi Cazzorla Austin poi qui un po' fiacchetto il 15 però posso dire il primo Enrique con 50 di velocità un po' fiacco ma sei merda a parte Sanchez veramente stupendo Cazzorla però il resto un po' un po' moscio cioè si azzardo che ero ok però il resto la carta base di uno qualsiasi quest'anno ma siamo sicuri che il Tozza è giù però foot 15 BPL Tozza e qua inizia secondo me la roba ma sono giusti Team of the Week è proprio a me questo eh sì Tozza BPL erano questi qua ma siamo sicuri questi mi ricordo Smalling Pagliere cioè mi ricordo queste carte ma erano tozze questi qua però questi effettivamente mi sono usciti però mi pare strano guarda che cazzo di team tutto storto Lukaku Arnautovic Smalling Pagliere oddio che erano 95 plausibile però bello delle alli bello delle alli una mezza Fuchs Cook Batland Cech una Cech assurdo intramontabile e però penso siamo questi questo a me mi è uscito pure sul sito ieri questo qua qui che mi ricordo vabbè questo era l'anno ma questo era l'anno de Smalling in Giocab no questo è l'anno dopo Sarnatovic mi ricordo molto bene Lukakoni pure quanta roba che ero pure assurdo inoltre questo non mi ricordo proprio però però toz BPL 17 17 vabbè il 17 è quello vabbè che io sai che il 16 mi sa che in realtà il 16 l'ho mezzo passato mo che ce penso 17 vabbè inizio a fare un baciotta perché c'è la weekend league carte veramente solide tipo mi ricordo che sua spiriguità l'avevo sbustato e mi ero comprato l'onzo e lì giocavo insieme con la tripla l'onzo clamoroso De Gea con la parata con i piedi ma quanti so bello mamma mia questo è uno dei tozzi migliori Lukaku 94 vabbè che Lukaku non si muoveva quell'anno però Hazard 90 eh vabbè qua uno cacciato roba si uscì pure il pot ma addirittura di Hazard non mi ricordo se era questo l'anno Cante Tozzi pure mi ero fatto dopo il triangolo del Chelsea Cante Aspili qui da l'onzo Vertong è un walker poi che ci abbiamo bello questo David Luiz pure Eriksson Joris De Bruins Sanchez di nuovo dell'Arsenal Zlatan Ibrahimovic del Manchester questo Valencia che era quello con uno di debole il base era l'anno suo Anderera giocava il base sull'invuel eh questo già inizia qui se vede proprio il salto che fanno comunque 16 orribile cioè il 15 comunque è bello 15 carino ma posso dire forse il migliore che abbiamo visto secondo me il 14 14 veramente bei up poi c'è una carta di Cristo oddio forse è il 13 con Bale 20 che non lo so però dal 17 c'è proprio la differenza il 17 c'è proprio esplorato vedi carte che tuttora ti romperebbero il culo a parte questo Vertong è un poverino sono belle carte e poi andiamo e poi andiamo sul 18 abbiamo 18 che avevo utilizzato ma sa quante vabbè ah ma ma salà c'avevo picca eh c'avevo picca il 18 salà sì sì sicuro fermino Young Marets ma Marets ma pure qua ti posso dire oh questo era quel Fernandinho ma sa che poi questi erano quelli del 19 su Bernardo Silva bello vero ah questo c'avevo picca no c'avevo pure questo e cazzo trovo ogni anno salà uno andrebbe pure a rivedesseli ma non si può perché te si lurano ogni volta cazzo hanno si lurato tutti gli account hanno si lurato i server non c'è più niente il massimo panna a vedere 22 tipo ok questo c'avevo sto sicuro Van Dijk Callison c'avevo con Robertson a parte Liverpool me l'ero fatta sono di nuovo Auba circa qualche carta capito sfiziosa bello pezzo di merda qualche carta un po' che ti ricordi un po' che ti mette un po' di nostagia ma la premiera è più forte di me stanno tutti i cigoglioni a parte Werbella che era bello tragico cioè si sono belle carte per carità però non c'è niente che capito da lacrimuccia la differenza d'altra volta sono delle carte devastanti poi ovviamente sono versi SB che pericchia a palle tutti è macello questo era periodo covid era il team Session so far che ti fanno uscire comunque anche se avevano interrotti i campionati tipo Tote Bruyne sempre odiato nel mio impalato per terra non sei muoio io ti fa tutti 99 pesa 500 kg Van Dijk ma Rez è qualcosa di un po' simpatico che mi fa di Ambedi eh già qua Adam Adraore Adam Adraore mi fa di Van Bissaka pure mi ricordo questo era l'anno che giocavi i tersini centrali poi giusto quindi era un anno in cui Van Bissaka era uno dei centrali più forti del gioco Ricciardi son pure mi ricordo era molto simpatico poi che ci abbiamo Son ok il classicone sempre Salah Vardi Vardi lo ho giocato è sempre un po' così un po' un po' fiacchetti questi andiamo al 21 Rubendia Scanselo eh già qui già qui si ragiona Bella Tripla Belli essi erano belli e poi Cancelo era devastante Salah Kane Son Bruno De Bruyne esce pure quest'anno è Tots Moments pure che ha giocato poco perché se era fatto male uscirà sto Luke Show pure me lo ricordo mi era piaciuto particolarmente sotto mazza che merda sto Team of the Week con sto Tots comunque fermate quattro carte hanno fatto usci Vardi Gundogan Mount e Sojak che hanno fatto un favore ma poi questi chi dovevi provare Kane perché l'altro li costavano tutti una barca 22 ma poi escono sempre gli stessi mamma mia che palle certo qua c'è Cristiano da Madeira questa è tanta roba questo è bello vero Giocanselo ancora Ruben Dias con Vondai Bernardo Silva Salah Bruno Fernandes De Bruyne per carità non metto un dubbio che dominano i campionati però che coglioni Arnold Reiss beh diciamo che Tots Premier non me lo ricordo con tanto affetto e qui andiamo su quello dell'anno scorso quello dell'anno scorso sai che mi era piaciuto però non era male perché avevano messo i momenti tipo sto James era simpatico vabbè c'è avuto il il bird quindi bella poi abbiamo Ode Garzin Cianco Martinelli Saka Varane eh sto Varane era assurdo era clamoroso Casemiro se mi rubano si Allan carino perché era il primo anno dove ho fatto un 4-5 S-Tots Kane eh no eh no qui c'è data di una cosa però una delle migliori carte che abbia mai provato uno dei migliori centravanti in assoluto Harry Kane ragazzi Harry Kane su next gen lengthy una delle carte più rotte in assoluto troppo forte ecco questo era la carta 140k compravi un fenomeno centrocampo simpatico eh lui 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 carta nostalgia ed è dell'anno scorso una delle carte questo tipo fa una tier list di queste e lui lo metto sotto a bail la mia seconda carta preferita ditemi voi se tra la Premier League ci sono carte che vi ricordate che vi fanno venire un po' di nostalgia per quanto riguarda il videogioco però insomma spero e sono sicuro che nei prossimi troveremo delle carte più belle più interessanti e specie vabbè Serie A che Vodica fa mai uscirà il video tra quattro settimane perché è l'ultimo team cash sicuramente andando verso Bundesliga anche la Liga Ligan stessa secondo me ci stanno belle perle purtroppo Premier monopolizzato da Liverpool e City in maniera allucinante ciao